Gitanti di Ferragosto, attenzione, se andate a fare la scampagnata sulle zone verdi di Abano Terme non accendete nessun tipo di fuoco e portatevi a casa i rifiuti. Divieto assoluto di abbandono di immondizie e di tenere comportamenti che possano generare roghi e focolai. È l'ordinanza firmata dal sindaco Federico Barbierato per evitare l'innesco di pericolosi focolai sul territorio comunale e conviene rispettarla. La multa massima per questa ordinanza va fino a 2.000 euro che comprende proprio il divieto di sparare razzi liberamente venduti e il divieto di abbandono di rifiuti e comunque il divieto di accensione di qualsiasi tipo di fuoco soprattutto nell'area vicina al Parco Colli che è ricompreso nel territorio di Abano Terme. L'ordinanza spiega il sindaco è stata sollecitata dalla regione a tutti i comuni del Parco Colli di vieto di tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private, di gettare materiali che possano generare fuochi come mozziconi e fiammiferi, di lanciare razzi di libera vendita e lanterne di carta e infine di gettare rifiuti. Un provvedimento che entra in vigore proprio mentre il distaccamento aponense dei pompieri resta sguarnito di personale, inviato in missione nelle località balneari veneziane e polesane, travolte dal maltempo di giovedì. Una carenza di personale, quella dei vigili del fuoco di Abano, irrisolta da tempo. Credo che bisogna trovare delle soluzioni adatte poi a preservare anche il nostro territorio con una dotazione di uomini forse un po' più strutturata e più numerosa.